Rubano l'uva nei pressi del villaggio di Vonn-Romanet. Per evitare di essere danneggiati prima della vendemmia, i proprietari dei terreni attorno al villaggio in Francia Centro-Orientale si affidano alla polizia. La situazione sta diventando complicata in una zona in cui la produzione vitivinicola offre prodotti di valore assoluto. Il 31 dicembre 2018 un furto aveva provocato danni per 52.000 euro a un produttore. Appena tre mesi più tardi un altro furto aveva provocato danni per 127.000 euro. Spiega un professionista della regione. Abbiamo bisogno di avere sorveglianza anche di notte perché è facile venire a rubare dei grappoli. Lo vediamo abbastanza regolarmente. Rubano due, tre grappoli ogni due e tre ceppi e inizialmente è difficile rendersene conto. Ma i danni sono ingenti. Così un poliziotto. I vignaioli sono contenti di vederci. Ci vedono, facciamo due chiacchiere e anche per l'uniforme che indossiamo si sentono rassicurati. Abbiamo l'uniforme cachi e ci vedono in modo diverso. Ma i ladri chi sono? A volte sono altri viticoltori rovinati da una gelata o da una grandinata che cercano di salvare la stagione a scapito dei vicini. Qualcosa che da queste parti può arrivare a provocare perdite per decine di migliaia di euro. Grazie. 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 Grazie.